In primo piano Il sito del Consiglio regionale cambia aspetto e nome. D'ora in poi l'indirizzo internet è semplificato in www.cr.piemonte.it Tra le novità più significative nella sezione trasparenza le presenze dei consiglieri alle attività d'aula, aggiornate mensilmente. Nella stessa sezione sono riportati i dati sulle indennità, sullo stipendio dei dirigenti del Consiglio e sulle assenze del personale. La nuova home del sito, completamente ridisegnata e semplificata, è stata presentata a Palazzo Lascaris nel corso di una conferenza stampa con i componenti dell'ufficio di presidenza. Questa è la dichiarazione di Roberto Placido, delegato ai sistemi informativi. Uno strumento attuale con tutti i vari collegamenti di social network, da Twitter a Facebook e l'altro, innanzitutto una facilità di consultazione, una facilità di avere tutte le informazioni, quindi la trasparenza completa, oltre a una veste grafica rinnovata, più facile, più gradevole, portano al Consiglio regionale sempre più ad essere a passo coi tempi con i nuovi media.